È un piacere e un onore essere qua con Vauro, Pietrasanta 2011 anteprime, intanto benvenuto. Grazie del benvenuto. La prima domanda, il suo libro preferito? Il mio libro preferito in assoluto? Il mio primo libro, mi ripeto perché è sempre stato quello preferito, è Il tamburo di latta di Vaurof. Ma perché è un libro che parla di un bambino che si rifiuta ostinatamente di crescere sia nel senso fisico sia nel senso psicologico perché è innamorato del suo disordine ed è contagioso nel suo disordine. Quando suona il suo tamburo sotto la dunata nazista e lavanda l'aria è una meraviglia. Il passaggio che l'ha colpita di più in un libro che ha letto, anche ultimamente? Eh, bisogna che ci pensi perché i libri, sai, si leggono in genere dandosi il respiro della lettura, appunto. Io non seleziono i passaggi, però, sinceramente. Uno dei libri che mi è piaciuto moltissimo e che credo stia andando molto bene, ma dovrebbe andare molto meglio, è Bilal di Fabrizio Gatti. Quindi diciamo che parlando di passaggi è proprio il passaggio del migrante che lui racconta benissimo, tutto il passaggio nella sua tragedia ma anche nella sua profonda umanità. Gatti riesce a raccontarci di persone e non di migranti o clandestini. Non schiaccia il suo racconto su un cliché giornalistico, ma ci fa entrare nel passaggio, ci fa entrare nel percorso. Il suo personaggio preferito, letterario? Il mio personaggio preferito, io sono pessimo nelle citazioni perché sono un librofago, nel senso che mangio i libri, li leggo disordinatamente, come ho detto anche prima, non guardo la copertina, ricompro lo stesso, ne leggo due o tre contemporaneamente, faccio un casino della Madonna. Il mio personaggio di libro preferito o scrittore? No, no, di libro. Beh, siamo lì al piccolo Oscar. E invece come nasce un suo libro? Ah, come nasce? Nasce su un block notice a quadretti. Sì, io mi affido sempre a questo strumento di altissima tecnologia, a questo penarello. E diciamo che è un po', è lui che mi vado dietro io a penarello, insomma, è quasi una scrittura automatica, ma non ha niente di paranormale. E invece cosa ci racconta di quello che sta per uscire? Insomma, siamo qua anteprime. Quello che sta per uscire è Il respiro del cane. È un libro, si potrebbe dire che è un libro sulla memoria, però il protagonista di questo libro ha con la propria memoria, che comprende anche altre memorie, come quella di tutti noi, è un rapporto un po' ostico e quasi ostile. Non vorrebbe mai fermarsi perché la memoria non lo raggiunga. È costretto a fermarsi in una stanza e, volente o nolente, la sua memoria lo raggiunge. In modo disordinato, caotico, associativo, confuso, ma in modo molto vitale. Quindi in fondo è la storia di una persona che si riconcilia con il suo percorso, con il suo passaggio, tornando a prima. Per finire, i cinque libri che lei preferisce, per aiutarci con Donable. Perfetto, io l'ho scritto perché l'ho detto prima che sono pessimo nelle città, quindi mi sono scritto, lo sapevo che mi faceva questa domanda. Quindi Bilal di Fabrizio Gatti, che ho già detto. Poi, ogni mattina Agenin di Suzanne Abulawa, Caduta libera di Nicolai Lillin, Ammutinamento di Neil Bascombe e Pappagalli Verdi di Gino Strada. Per me è stato un libro importantissimo perché è nato un grosso rapporto con Emergency. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.